canale in compagnia di trappone pippone allora raga cioè mica tu hai già quello di un toplan è bellissimo come in capito fai da verlo fratello non riesco mai a cercare di fare le missioni con il toplan falle tu non lo so fare no Michele ok che hai fatto raga finché ho spazio nel inventario me lo porto un secondo pompa perché quando finisci di usarne uno finisci allora raga poiché ogni cioè veramente sembra una cosa fatta apposta quando io gioco normalmente mio fratello non mi viene mai a rompere guardando i video vicino a me quando registro i video invece volevi registrare i video normalmente quando c'è tuo fratello e invece allora raga eh vabbè questo video di oggi lo sentirete senza audio anche i prossimi video perché voglio fare qualche video senza audio ok 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 Sì, sì. Sì 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 No raga perché sono stato così scemo da fermarmi due secondi a luttare No Raga questa morte me la porterà sulla coscienza a vita Ma è live o video? Video Saluta Sì 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 No Perché? Perché sto facendo un video e non una live Fai una live Dopo Miche? Ma come ti chiamano su youtube? Poi te lo dico aspa Fammi concentrare per questa partita No Sto su youtube Miki HD Raga lo so che ora ho messo l'altro nome Michi 09075 Solo che appaio comunque se cercate Michi HD Mi Perché sono così scemo da spiegare? M A M A M A M A M A I K I K I Psylon Spazio HD M I K K I Psylon Spazio HD Ora mi fai concentrare sulla partita e sul video per favore Raga se volete I K Tutto grande vabbè non importa se cerchi tutto grande tutto piccolo ora mi ora per favore stati zitto grazie neanche il mio canale ti esce vabbè parliamo dopo parliamo dopo parliamo dopo vabbè poi vediamo ma ho già mikey vabbè però ma i ptira non parte a cadì a cadì o a cadì o a cadì o a cadì o a cadì d d d d d d d madame vabbè ora per favore stati zitto raga scusate per sti momenti però se non ti esco dimmelo si ora per favore basta basta che metti l'audio basso se clicchi sull'iconcina del canale ti escono tutti i miei video dipende in alcuni video stai ora c'è 24 iscritti vabbè si metti il video a zero metti il video a zero sennò va in audio gioco a registrare o puoi togliere l'audio per favore al video ce l'ho tenuto io perché perché da fastidio ok ok io tolgo il volume proprio delle cuffie non mi senti eh io ti sento tu parla che poi ti smuto quando dici che posso smutarti ok 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 c'è ragazzi ho ah qua ci sono dall'altro lato penso che posso solo player sinceramente raga quanto è forte la pistola si è iniziata lo so solo io eh già poi avvisami quando torna Claudio che lo muto per fare il video eh ti muti per favore ok io ritorno raga mi faccio una bella strage con l'assalto raga raga l'unico fatto per cui secondo me per cui secondo me l'assalto è più forte del vampa è perché puoi sparare un colpo alla volta ok 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 Sì Ehi, bro, saluta YouTube Ehi, bro, saluta Vai, raga, ho finito, mazzo Raga, me la prendo la kill E poi qui Eh, vabbè Gigi Eh, Giorgio, smutami Oh Oh, Marco 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 Sei andato Finito Però metti pronto, eh Oh, Giorgio Dai, metti pronto Ah, sei morto Pensavo che eri morto Vabbè, torna alla lobby Quando finisci di vedere il video Sì, sto tornando Arcesi anticipato Ma puoi togliere il video Ma che dobbiamo giocare Posso dare Ok Io non sto in nessun video con te Sì, sto in qualche video No, no, ho visto in un video Tipo questo Dai Vabbè Dimmi se metti pronto Perché c'è un bug che non mi fa vedere Oggi siamoci tutti preparati Come ho fatto io l'altra volta con Francesco Visto tutti i tocchi che facevo con Francesco Io così mi faccio mettere nella formazione di domenica Ma non è che tutto il giorno Non sono una partita Un torneo Pure lui è a falce Raga, vi do un consiglio Se vedete i miei video Teneteli tutti sempre a Non lo so Metà Della barra Perché Non lo so Perché così tipo Non sentite Mio fratello che sta da dietro Che puntualmente appena comincia Di fare un video Lui ne guarda uno Andiamo a Rischi Dove? A Rischi Sei fino all'imiche No, è troppo Condotti Pinna Ok Palazzo Palazzo O vediamo Palazzo Che così piccoliamo insieme Facciamo un botto di male Vediamo se andiamo al campanile Se piccoli in doppio Se piccoli in doppio Toglio almeno 20 a colpo Perché fai 10 10 20 Andiamo a queste qui L è falso Perché sono basso Doppia L Questi qui Due armi Io Proprio tattico Tatticone E mi che Possiamo sopravvivere Sopravvivere Ok Io le armi ce le ho Per mo' Io c'ho Un pompa E un famas E un Un vampa Balestra Venite a me Per favore Eh Raga vi do un consiglio Se siete a pinnacoli Lo scudone Bevetevelo subito Oh sta arrivando da me Bro da me Vengo Bro Sta Sta giù o su Non lo so Su credo Eccolo qui Da me E sta giù con il quad Ve lo so Sto da te bro Tu stai giù di me Stai sotto di me Stai sotto di me Sali Sali Sto da te bro Ok Sei ucciso No Usciamo brother Scendi Uno ho visto Uno con la skin De pass Ucciso Buono questo Hey stiller Da questi scudi E mo' scopro che questa giocava a 5 Almeno uno Anche se raga la pistoletta è fortissima Eh Beh tra po' Tra po' Eh no Oh Questa Questa Mi sa Una cassa Dovete a pushare Che io sto Luttando questa cassa Eh già Un po' Michele aspetta Oh c'è un sematomatico Per te Che dice nel video Che si Dovete sempre usare con tre colpi Mi chiede qui giù Si Vabbè no Non Anzi Dai dai lo prendo Anzi no Dai Se le poste le dici nel video si devono prendere No Non ho detto che Mi piace Ho detto che È forte Cioè In alternativa Tutti lo sottovalutano Però è fortissimo Raga Se avete tanti colpi Sparate sempre Se avete pochi colpi Sparate un colpo alla volta Se avete medi colpi Sparate due Se volete rischiarvela Sparate sempre tre colpi Perché così Se prendete tre body Siete appostissimo Aspetta 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 Ok vai Aspetta Vado dentro al canno Tu proteggi Lasciamola a me Dai ti prego No Aspetta Quel missile è guidato Eh no dai Vai qua dentro Fatti la finestrella Prego No no Vado qui dentro Vieni pure tu Vai Entra qui Dai Tre Apri No ma non passa bro Troppo piccolo Si che passa Vuoi vedere Lo faccio io Faccio io Bro faccio io Perché non passa Bro faccio io Nel caso muoio io Bro Dammi tutti i raggi che hai Se ce li hai Tutti Aspetta Aspetta Spostati 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 No basta Basta Non c'è nessuno Non c'è nessuno Ma vabbè Prova player Prego ma dai Lasciamola a me Dai Ma tu mi hai sprecato Tutti i raggi E' un raggio E' un raggio Andiamo Altro che poi non era vero player E l'avevo anche capito Però Sta dentro Sta dentro Sta dentro Sta dentro Ah sta dentro Dove dentro Qui dentro Lo spavini C'è un famo Per te Sono io Aspetta Apri Oh abbiamo dominato Pichinato Oh davanti a noi Bro Davanti a noi Stanno qui Stanno qui Spacca Stanno dietro di noi Qui Dove Stanno sotto da qualche parte Qui Mi senti Passi Sta qua Sta qua Dov'è 1 2 Terra 1 Vieni Vieni Ma hai tolto Tutti i colpi Minchia Minchia Non c'era nulla Raga Gli ha ammazzati Di scarre Uno Uno me lo si è lasciato One hit No Non mi serve Raga vabbè Anche se preferisco il vampa Quando Cioè Fra vampa bianco E assalto Oh la madonna Vieni 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 Bro Bro Stanno Peler No La safe Oh Bella Eh questo al volo Non te l'aspettavi Eh Andiamo sopra la collina Scendi qua Che se non l'hai fatto C'è pure il gargoyle Da ballarci Un po' di mazzi Brutattichi Eh tu quanti ne hai Io ho colpi piccoli Bro Ce ne ho 30 Colpi 90 Nemmeno una carica Un P90 40 Ma credo si è dimenticato Di Bro Vieni 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 Sì Peler Sì Vengo Ma tu cari Prima Non posso Venire subito Dato A Una A Dieci di vita Una Diciassette di vita Raga Per questo video è tutto Noi ci becchiamo Come sempre Domani Con un prossimo video E nulla raga Vi posso dire solo questo Ciao gente